Mercoledì 23 settembre San Pio da Pietralcina e il 266esimo giorno dall'inizio dell'anno ne mancano 99 alla fine. Il sole sorge alle 6 e 59, tramonta alle 19 e 10. La luna si leva alle 16 e 08, tramonta al luna e 09. Viene emanata un'ordinanza secondo la quale vengono espulsi dal maggior consiglio i nobili che abbiano una commenda o beneficio ecclesiastico. Da venerdì 25 a domenica 27 settembre Festa dell'Uva a Conegliano. Oltre 300 vini, musica, ballo, spettacoli e rievocazioni storiche. Ospiti i vini autoctoni della Sicilia e la città di noto. Info, associazione Dama Castellana. Le previsioni per domani. Schiarite alternate ad annuvolamenti più presenti nella prima parte della giornata. Precipitazioni generalmente assenti, solo probabilità bassa di residui e precipitazioni sulle zone orientali e sulla pianura meridionale. Temperature minime senza notevoli variazioni o in diminuzione, massimi in aumento sulle zone nord-occidentali in diminuzione altrove.